C'è una pellicola su Disney Plus che sta facendo molto parlare di sé, ovvero Nessuno ti salverà. Il film racconta di incontri alieni, ma in modo particolare, infatti è uno dei pochissimi film, se non l'unico, che non ha alcun dialogo. Una pellicola girata interamente senza dialoghi, nella quale la ragazza cerca di fuggire a questi alieni che sembrerebbe vogliano catturarla. Dopo una serie di vicissitudini scopriamo poi il finale. Ma è di questo che voglio parlarvi, proprio il finale di Nessuno ti salverà, perché in molti ne stanno parlando e in moltissimi non hanno ancora capito il suo significato. Arriviamo un po' in ritardo, ma è evidente che è un argomento molto attuale, perché è un film particolare, che potrebbe attirare comunque l'attenzione. E se non l'avete fatto, ragazzi, andate a recuperarlo, perché è veramente, veramente interessante. Comunque non è la prima volta che viene trattato questo argomento, questi incontri alieni. Quindi in questo modo poi non è stato mai trattato, soprattutto senza inserire dei dialoghi che accompagnino l'azione. Ma si sente l'assenza in particolare nella parte centrale, soprattutto perché il ritmo cala e iniziamo a capire dove si andrà a parare con la trama. Ed è lì che si sente molto l'assenza dei dialoghi. Ora vorrei fare un po' di spoiler, quindi se non avete visto il film di Nessuno ti salverà, andate a recuperarlo che trovate. Lo potete trovare su Disney+. Dopo aver superato una serie di ostacoli durante il film, la protagonista, Bryn, alla fine viene catturata dall'astronava aliena. Qui gli alieni entrano nella sua mente e le fanno rivivere il passato, dove, quando era piccola, aveva ucciso accidentalmente con un macegno durante una lite la sua migliore amica, Maud. Ed è per questo che la ragazza ha deciso proprio di vivere ai margini della città, reietta e scostata da tutti, perché comunque la incolpano dell'omicidio della ragazza. Quando gli alieni vedono e fanno rivivere a Bryn quella scena, capiscono il dolore che sta provando la ragazza ancora per quello che è accaduto e capiscono come lei stessa è lontana dagli altri esseri umani e quindi totalmente differente da tutti i suoi simili. In questo modo, dopo un dialogo logicamente in lingua aliena, non capiamo quello che si dicono ma lo intendiamo, quindi rilasciano la ragazza e evitano la possessione che vediamo appunto durante la pellicola, in modo come, come possiedono gli alieni, gli esseri umani con questo essere che viene messo nella bocca poi alla alien e quindi poi controllano i corpi che vengono in seguito catturati. Alla fine vediamo Bryn felice e contenta che balla con gli altri esseri umani che in realtà non sono esseri umani ma alieni. Qui questo perché accade? Perché Bryn era un alieno nella società umana e adesso si trova a casa in mezzo agli alieni, proprio perché respinta e reietta dai suoi simili per una cosa che viene incolpata dopo tanti anni, nonostante fosse solo una bambina e fosse stato appunto un incidente. Quindi gli alieni capiscono che lei potrebbe vivere insieme a loro ed è per questo poi che la lasciano vivere. Insomma, un film audace come sta stato definito da molti che mi è piaciuto moltissimo e mi ha sorpreso soprattutto perché non mi aspettavo un finale del genere in realtà. Quindi ragazzi ve lo consiglio e se vi è piaciuto il video come sempre mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Detto questo io vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i nostri link ai canali social, Instagram, Facebook e YouTube. Per il momento grazie da Valerio Perrone e da Ciaccazione vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti.